Stesse dimensioni del mio pene. A vero? Puoi giurarci. Vuoi una mela per sentirti meglio? Un pomodoro per... E tu che vuoi? Una banana o un cazzo? Scegli, di sicuro uno dei due. Sai, io trascorro buona parte del mio tempo nel Tempio dei Divini. Che vita di merda. Ti va di scopare? Al momento ho da fare. Ho moltissime faccende da sbrigare. E tu? Non ora, per favore. Allora vuoi scopare tu? Va bene, va bene. Mi hanno detto che sei frocio. Lo sanno tutti. Che posso fare per te? Andare a fanculo. Sì? FUCH! Tranquillo, e vedo. Tranquillo. Tranquillo. Non è certo. Non ci sia una resta scelta. FUS! Dai. Le dia... FUS! FUS! Ciao, bambina. Salve. Tutto bene? Mmh. Diggli a tua madre che ora vado a scoparla. va bene allora alla prossima ciao ciao zuccoletta ciao